ma che dite qualcuno di loro devi usare la R o l'SMG di caccia non lo so tu preferisci usare la R Namo qual è il side migliore? non lo so si non mi ricordo che cosa? è quello che esponi con la flag di C e non quella di A C dovrebbe essere federazione raga federazione 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 no 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 è al contrario è ghost e ghost raga pulatele andate da là prendi te allora la flag le una la cavata destra io vado sovrarotto eh attenzione che uno può correre da sinistra verso pawn quindi stateci attenti si si caccia puoi mandarti se vuoi passare pure dal mezzo mappa e poi entri sotto pawn e lo pigli dal fianco lui non ti vede invece vai da lì ti fa un frontale rambo ma si che palle porca madonna dai dai noi cozzo spacchiamoli su questo e mandiamoli a casa spacchiamo i loro sogni tre tre due uno via ha subito c'è un altro C'è davanti, c'è davanti C'è davanti un'altra ancora Nascondimi Non correte in mezzo alla mappa Fatele così piano Non sale da me Non lo vedo sotto pawn Uno dietro al camion puttane Uno a destra Uno a destra No è sopra, è sopra, è sopra È sopra pawn Sopra pawn leo Si è buttato, si è buttato dal centro Si è buttato dal centro, forse va su C Occhio Tu ma pusciato sotto dinner Sotto dinner, continuano a mettere così tanta pressione Che non si può uscire Eh, uno dietro a camion puttane Bravo Lo prendo io, lo prendo io Diregli all'altra parte Ora, ora, sta in tank, sta in tank Sta guardando verso A C'è davanti, Leonardo Campero io, campero io su Vai, 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 Leonardo Abbiamo perso C Sto arrivando, leo ti sta arrivando One shot, one shot, è connessionatissimo Bella Luca, ripiena, ripiena Sottomodelle, sottomodelle Sottomodelle No, regà, mi è venuto a prendere Sono andato puttane Guardaci, guardaci Ok C'è l'esercito modello C'è l'esercito modello C'è l'esercito modello C'è l'esercito modello Ok, buona vai subì, vai subì, vai subì Vai subì Ugina scuti a destra No, dietro no No, no, no Non ci credo Ho acceso un secondo dopo Il chilometro Che famo? C'è la rimane vivo Uno va a su, A Però la vado a prendere, O One shot, one shot Spare nel muro, lo buchi, lo buchi, lo buchi Bella Vai subì, vai subì Vai subì insieme Vai su, insieme Ti guardo, guardo Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda una destra una destra una destra uscita centro no no non è possibile sta cosa c'è sinistra leo bravo rimani fermo rimani fermo bravo le foto il pezzo giocato un altro altro che entra un altro che in pagaccia aiutami sono da destra sono tutti peccato l'azienda pullman peccato per incivali in cimorti raga poi ci faccio faccio caccia one shot al tank lo stunnato lo stunnato sta benzina 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 arriva cv cv cc a scampere ad uccisi appena appena la vendita su ci sono tutti i campi la sua campi la sua stava sono due sono due pare che a prendere riprendere un altro acceso preso bravo il pullman il pullman il pullman mi sparano dietro no non l'ho preso non l'ho preso dai ho visto volete dal camion connessionato con shot succedi 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 va da dietro sono nati in c sono nati in c ma vai su a vai su a vai su a pia la la pigli cazzo però c'è un trofi dentro 2 subito ancora ammazzato il terzo dai 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 i colpi regano gli arrivano i colpi no vabbè no regalo gli arrivano i colpi non arrivavano più colpi vi spiego una cosa allora basta che allo start switchiamo le flag ok non lasciamo su a allo start switchiamo su c pushate c con l'SMG capito chiunque di voi sia adesso lo faccio adesso lo faccio ok pushate c tutte e due l'SMG ok pushate c no la prendi te o la prendo io vai col termico sopra motelle e guarda se attraversano broken madonna ok ok tranquilli tranquilli va sopra broken dici si va sopra broken oppure attraversa diretto io prendo ho paura che mi prendono dal coso dal si di piano devi affacciarti dalla finestra quella che sta sopra la bomba non la finestra quella la piccolina ma regate switchate subito ci tu dici quella sopra di finestra no eh leonate dici da sopra la finestra questa qua a destra tua sopra le scale ci sta la prima finestra non la seconda si si devo salire questa scala qui a destra e la prima finestra mi affaccio ok ok corri in dinner come non hai mai gusto si si tranquillo sto davanti io me so cercate di camperarvi fate due kill e poi fate quello che volete cioè tanto conta quello conta fare due kill e poi potete fare quello che vi pare che li mandi nel panico dai regà questi mostrano a tremare mostreremo l'esperienza legateli un pochetto cioè state in base fregatemi dei bici a legateli in base loro qualunque sia la base loro cioè luca fai 6 kill senza che te agili con quel bizzo e non spari senza mirare non sto facendo ti giuro eh ti vedo che spari senza mirare col bizzo e non mettete stare in mira vai si un ha passato mi hanno preso in due mi hanno sparato due ce n'è uno sopra rotto sopra rotto sopra rotto Via Prendiamo Ho molto appena Ho appena Un'altra volta Sommare con smg To pra broken C'è buttato Raga sta allargando tutto vai no prende a prende a prende a Non li fa la trik a sempre Do morti Tu morti sono tu un'altra a destra da noi la preso con lì siamo io lato sinistro se vogliono fare gala testa regala testa ma c'entro bravo lagga tutto rega sull'anno scattica regalo allargato una sinistra soprappone soprappone bella una strada è passato su vado su città ma non ci va giù 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 ci fa preso una cinta da mia mano c'è un altro prende vai 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 c'è un altro sinistro la granata io sono andato subì vabbè sta subì adesso sta subì adesso sta subì adesso bravo luca vai subì vai subì via la via la pira vado io sottolinea 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 no ma preso stando due dati mi hanno preso lagga tutto lagga tutto da di nanda di nanda di nanda di nanda di no cap te last of the�지 mananti mananti lupi В pvd avrà bene la carla prende prende la prende non la prende con la prende non la prende non la prende non la prende non la prenderono apprendendo non mi stanno spavendo dietro ragazzo c'erano tutti la c'erano tutti in c c'è uno mito il preso bravi a destra che a destra continuate con la con l'aggressività guarda la sinistra no ma colterà tutto testato a destra per i cpc attenti a b b b b non la perdete b non la perdete via importante importante ma subì luca di copro ci sono ce la ce la ce l'occasione ci aiuto io ti aiuto io ti ho preso bella vado di là vado di là vado di là vado di là no b 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 raga l'ho già preso io l'ho già preso io ho già preso io ok bella cazzo caccia bussha dritto caccia bussha dritto sta lagando sta lagando sta lagando tutto ha lagato tutto c'è uno che è arrivata la forza fermi 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 arrivo tu a noi non perdiamo adesso non perdiamo tu hai shot one shot one shot ce ne sono in cc ne sono in cc sotto modello bravi 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 ragazzo pushando va da destra largo su cina dobbiamo prende il video però prende il video però prende b a centro subito un altro l'altro a 100 preso bravo una volta riportato tutto finire tutto l'inner ma casale carinciamo dai mi c'è mentre tratta la grana mazzaggio la mazzaggio la mazzaggio aspetta bravo c'è uno a sinistra, c'è uno a sinistra devi ammazzarmi vai 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 dai dai luce cazzo si abbiamo vinto l'altro dietro preso vaffanculo best team in the game baby let's f**king go, we are the best let's go let's f**king go si oh mio dio quante flag ho preso oh mio dio ma pure io si ma la connessione orsena mo lo posso dire mamma mia ha lagato un sacco di volte quando potevo fare una doppia a quelli che attraversavano in puttane le ali